Una produzione VG Channel In questo nuovo appuntamento con salute al quale vi do il mio benvenuto oggi vi faremo conoscere l'ospedale del mare di Napoli una struttura assolutamente innovativa e all'avanguardia piena anche di eccellenze oggi ve ne faremo conoscere una Eccomi in uno degli ambulatori in dettaglio è quello del reparto di otorino laryngoiatria e patologia del cervico facciale sono in compagnia del professor Giuseppe Tortoriello che è il primario, il responsabile di questo bellissimo reparto all'avanguardia e ancora prima di entrare nel dettaglio di quello che stava succedendo qui una visita, noi siamo proprio entrati così all'improvviso io con lei da subito voglio chiarire una cosa che questo non è, perché ce lo raccontiamo noi un reparto all'avanguardia e di eccellenza lo dicono i dati Agenas che sono dei dati relativi alla sanità nazionali attenzione e lo dicono da un bel po' di tempo io ringrazio di questa opportunità i dati nazionali ci decretano come uno dei primi centri in Campania ma soprattutto del centro sud Italia sul trattamento della patologia oncologica laringea quindi noi abbiamo, come dire, creato un grosso impegno una battaglia per sconfiggere il tumore ma soprattutto per cercare di dare a questi pazienti una miglior vita soprattutto nella ricostruzione della laringe perché il nostro, come dire, il nostro programma è quello di essere oncologicamente radicali, di togliere il tumore e di dare l'opportunità al paziente di poter parlare nella ricostruzione senza corde vocali e il famoso buchetto, cioè il tracheostoma, è permanente e viene di solito chiuso dopo 15-20 giorni dopo che il paziente ha ripreso le sue funzioni naturali, respirazione e fonazione Ecco, noi quindi siamo piombati qui nell'ambulatorio mentre lei stava visitando una delle sue pazienti operate con questa tecnica anche particolare voi utilizzate una telecamera in 3D quindi collegata con gli occhiali sempre più difficile, insomma, fare il chirurgo Io devo dire la verità, questo è anche il nostro motivo di orgoglio perché l'ospedale del mare è un ospedale innovativo non è solo l'innovazione strutturale di quello che vedete di questa bellissima struttura, di questo bellissimo ospedale ideato da Renzo Piano, quindi per noi è anche motivo di orgoglio ma siamo innovativi anche sulla tecnologia Noi abbiamo operato alcuni casi, alcune persone con un modo nuovo cioè con una telecamera a 3D non guardando il paziente ma guardando il monitor è una, come dire, un'innovazione perché questa telecamera a 3D ci fa vedere tutto ingrandito e siamo particolarmente precisi nella ricostruzione C'è da dire, mi scusi se la interrompo, di queste telecamere forse qualcuno aveva fatto uso ma mai sul collo Esatto, perciò siamo, diciamo, uno dei primi centri in Italia secondi a Torino ma solo per pochi mesi Noi facciamo vedere, la cosa bellissima, che togliamo in questa paziente, l'abbiamo appena medicata si vede ancora i segni della ricostruzione della plastica di chiusura della trachea perché la signora, oltre alla novità della 3D ma ha un intervento rivoluzionario perché è uno dei pochi casi in cui abbiamo ricostruito si chiama tracheoioidopessia cioè la trachea viene collegata alla base della lingua e la paziente parla con una piccola subunità cartilaginia Ecco, no, adesso però la devo interrompere perché io spero che la signora si renda disponibile a una breve intervista Come è arrivata qui all'ospedale del mare? Ho fatto vari pellegrinaggi poi mi hanno indicato proprio qui all'ospedale del mare il professore Giuseppe Tortoriello come eccellenza nel campo dei tumori alla gula Senta, lei naturalmente quando è entrata in sala operatoria aveva dei timori quando ne è uscita qual è stata la sua meraviglia? La mia meraviglia è stata quella che quando sono uscita innanzitutto ero viva e questa grazie al professore e poi anche il fatto che io parlavo pronunciavo le parole A, B Adesso lei parla solo come se avesse un raffreddore noi le facciamo il nostro in bocca al lupo Professore Tortoriello Dunque assolutamente da queste parole viene fuori l'emozione che si percepisce qui anche nei collaboratori Vorrei fare dire una parola anche alla caposala perché naturalmente anche assistere questi pazienti è psicologicamente impegnativo Sì, innanzitutto questi sono pazienti che prima di entrare in camera operatoria hanno un timore terribile di non poter comunicare e la cosa nella quale loro si preoccupano è questo il nostro obiettivo è quello di fargli capire che innanzitutto la vita non cambierà anche per quanto riguarda l'alimentazione e infatti penso che lei possa confermare che la nostra equip è molto dedita è preparata, è formata E d'altronde credo che questo sia poi il trucco quello di avere grandi tecnologie in una bella struttura ma anche con una squadra notevole Professore Tortoriello Io faccio mia che cosa che non è possibile che questi pazienti continuino ad andare fuori regione quindi noi andiamo proprio non a favore di quella che è la volontà anche politica di dover assolutamente trattenere questi nostri pazienti e non continuare il viaggio della speranza in altri posti Chi vi parla è il primo allievo della scuola più importante in Europa sui trattamenti dei tumori cioè la scuola di Vittorio Veneto Continua oggi a percepire con dati diretti che il 73% della patologia del sud Italia di cancri della ringe continua a essere operata a Vittorio Veneto a Brescia, a Milano, a Padova non è più concepibile Io spero che il governatore De Luca vigili su questa situazione perché non è più possibile che un medico di base non si documenti che esistono dei centri eccellenza non è più possibile che uno specialista in otorino la ringoiatria debba inviare a suo piacimento in un'altra sede regionale Con costi tra l'altro esorbitanti Esatto Poi a livello regionale noi abbiamo tanti altri centri qualificati che non spetta a me dirlo però certamente noi dobbiamo combattere questa emigrazione è intollerabile, non è più possibile e soprattutto io invito alla medicina la medicina di servizio alla medicina specialistica a tenere alto quelli che sono dei centri di riferimento perché il paziente doppiamente beffato per la patologia che è quindi la sfortuna che si è ammalato di tumore e deve andare poi fuori e i propri, non solo ma i parenti per poterla assistere devono spendere veramente tanti soldi e oggi con una crisi economica questa cosa non è più tollerabile Io la ringrazio molto per il suo entusiasmo per quello che fa la ringrazio anche per la signora che ci ha dato una testimonianza forte che non è una testimonianza di una fiction perché questa è proprio la realtà e della realtà dell'ospedale del mare noi continueremo a parlarvi anche la prossima settimana con un altro reparto che è una eccellenza grazie per essere stati con noi salute finisce qui se ve la siete persa appuntamento online su www.vgchannel.com alla prossima Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli Carpisa Yamamai Grazie a tutti